Ci sono anche le parole del Ministro dell'Interno, Piantedosi, che sentiamo insieme. Al di là delle discussioni, anche legittime, che alla politica a volte i giornalisti vogliono in qualche modo sviluppare anche in maniera predettiva, visioni particolari, io credo che sarà importante lasciarla volare a giungire, perché potrebbe essere veramente una pagina chiarificatrice questa dell'arresto di Matteo Mussina Denaro, e di compreso anche sulle modalità e sulle reti di condivenza di cui probabilmente ha fluido, perché altrimenti non sarebbe andata come è andata, e poi peraltro come sta emergendo in maniera tangibile e visibile.